Sulla nostra penisola è presente un campo di alta pressione anche se infiltrazioni di aria fresca in quota mantengono condizioni di instabilità segnatamente nelle aree interne durante le ore pomeridiane. Si tratta di una configurazione barica che non favorisce l'avvio in grande stile della bella stagione. Infatti nei primi 15 giorni di questo mese di giugno non abbiamo avuto ondate di calore degne di note e questa fase proseguirà anche nel corso di questo fine settimana e l'inizio della prossima. In dettaglio ecco il tempo previsto per domani sabato 20 giugno. Cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite durante la mattinata mentre nelle ore pomeridiane addensamenti nuvolosi potranno interessare la dorsale appenninica specie il settore orientale dove si potrebbero avere locali piovaschi e rovesci anche a carattere temporalesco ma si tratterà di brevi episodi che andranno esaurendosi nel corso della serata. Le temperature registreranno una lieve diminuzione. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali e il mare risulterà poco mosso, localmente mosso. Per domenica 21 ancora condizioni di instabilità segnatamente nelle ore del pomeriggio con rovesci anche temporaleschi che potrebbero estendersi anche su alcuni tratti di costa. Le temperature risulteranno ancora leggermente inferiori alla media del periodo e saranno fresche nelle ore notturne e al primo mattino. Venti ancora tra debole e moderati da nord-ovest tendenti a disporsi da nord e mare mosso. Nei primi giorni della prossima settimana l'instabilità potrebbe accentuarsi segnatamente nelle aree interne durante il pomeriggio. Quindi avremo ancora occasione per rovesci anche temporaleschi che andranno esaurendosi però in serata. Una situazione che proseguirà almeno fino a giovedì 24 giugno per cui per l'avvio della bella stagione occorrerà attendere probabilmente il prossimo fine settimana e mi riferisco quindi al 27-28 giugno. Per maggiori dettagli invito ancora i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it